Allora io sono Gabriella di Mita, di Mita stropicciato ma in realtà sono di Mita insomma per vari problemi dell'era in cui sono nata, perché mio padre è un immigrato italiano di origine napoletane, è andato in Etiopia, si è sposato con un etiopico, ecco il frutto su! Ancora cosa mi piace, c'è vari segreti, bisogna scoprirla, come il popolo anconetano bisogna scoprirla, a primo impatto diciamo che siete terribili, per me è stata dura, venendo da Roma dicevo ma che popolo, manco di un buongiorno, sono abituata a Roma che entri in un bar e ti abbraccia come se fossimo amici di vecchia data, Questo mi manca, mi mancava, invece pian piano con le amicizie che mi sono creata diciamo che bisogna scoprirla, Ancona e i suoi paesaggi, i suoi Anconi!